Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati, io sono Gio che basta, lui è Kratos, ripartiamo da dove ci eravamo salutati, dunque io sono andato a farmi un altro livellino di vigore, perché equipaggiamento, ovviamente quella spada, pesa molto, quindi bisogna che gli diamo un po' di più di efficacia per poterla equipaggiare. E niente, qui c'è ancora il tizio, sì sì, ci siamo già visti. E vedo come si chiamano il dreck di giù, ma che si chiamano il mondo, ma che si chiamano di grigio al vecchio, ma che si chiamano un po' di più, ma che si chiamano un po' di più. E' un po' di più, per dare percibire qui, puoi trovare la resta del mondo, non è un po' di più caldo, ma non è molto buona. Eh, un tesoro. Mi ricordo che cos'era. C'era un talismano o qualcosa. Mo qua esce di nuovo. Quella puttana la. Questa è davvero amante nel deserto. Tutta per sta cazzata. Ah, questo l'ha ammazzato lei. Cazzo, mi dai tregua. Ah, ok. Figlia di puttana. Allora, un'altra via. Una volta che facciamo secchi, poi ce la volgeremo con calma, sto po'. E da, cazzo, pure qua dentro mi becca. Grazie. Perché non l'hai preso con la spada che l'ho alloccata apposta? Ma, certe volte, ma fa delle cose... Cazzo. Oh, l'hai preso con calma, sto to**. Ohl'hai. Ciao. Ohl'hai preso con calma. Ah. P minuto. Ohl'hai preso con calma. è infatti serve aspetta pure quella ok ma va fanculo cioè ci ha avvenenato lo stesso guarda guarda sì allora devo prima trovare l'angelo che cioè l'angelo il bastardo che evoca sta puttana e basta mannaggia cristoforo abbiamo preso l'anello più 3 allora abbiamo preso l'anello più 3 almeno quello l'abbraccio eh credo che questo ma lo possiamo togliere 91 e 8 97 e 7 ma che cazzo però dai questo è più 3 64 vabbè carico di qualità è sempre 64 percentuale di carico 65 6 se cazzo 70 no è troppo per forza per forza però così almeno eh cazzo va bene e infatti qua come cazzo si andava non è da qua che si andava e basta almeno da qua a 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 ok quindi quella grandissima troia adesso lì dovrebbe essere sparita a si però c'è quell'altra la sotto andiamo le cose là dentro c'è da andare là c'è un'altra cosa da raccattare a 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 ok quell'altra a 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 c'è quell'altra troia la sotto a allora ecco ma belena pazienza ci cureremo io voglio trovare quello che ha ammazzato c'è c'è la larva che ha evocato quella però se non mi ricordo male era nascosta da tutt'altro lato rispetto a dov'è quella ma scusa un attimo non mi ero curato eh 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 che cazzo vuoi andate una fanculo eh che cazzo vuoi andate se non sbaglio c'era a parte quella la sopra ce n'era un'altra da un'altra parte che vuoi che vuoi attivano che che bella pezzi di titaniter in me eh ma non viene qua quello cazzo dai lego di lego cazzo 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 ok l'ultimo colpo un momento ci calava vabbè se non sbaglio ce ne staranno ancora di questi qua la dietro si se non sbaglio la dietro ce n'è un altro bello sto spadone mi piace proprio si si mi gusta mi gusta proprio sto spadone è pesante però ma più più tempo gli do e più leggero un po' di vento qua non c'era un cazzo oh no c'era c'era c'è sta il figlio di una mignotta vieni vieni qua vieni figlio di e no cazzo è l'uscio la più grosso del nostro oh spadone e però non siamo più determinati bene che c'era qua di così prezioso una lastra i titanici porca la troia ok bene quindi abbiamo pulito abbiamo ripulito tutta sta zona qua non c'è più un cacchio da prendere quindi damose subito sotto non è che c'è qualcos'altro no si scende pure qua sotto cazzo ah si 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 se non erro c'è c'è sta c'è sta come no eccolo là però c'è un altro bestione di quelli dove sta il bestione eccolo eccolo là e da dove cazzo ci devo andare da là mi fa andare lì si ok capito andiamo di qua arrivano i nanetti ci stanno pure ma no mi senti no devo andare da sopra non posso colto mica sulla testa non so cazzo spadone curvo di harald si è spostato si è spostato No Cazzo niente Perché è troppo basso Vabbè mi ha rotto il cazzo Ti ammazzo uguale dai Ti viene Ti ammazzo uguale se stavi qua però Perché là c'è Il veleno Rilasci uno pezzo di detenite a gogo Via 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 Dobbiamo risalì Ok Oh devo capire come si arrivava su sta cazzo di casa Ed è questo tronco qua No Non è nemmeno là Quindi di qua Dobbiamo andare su Ah qua qua Là ci sono I nanerottoli Dove è qua Oh Ma l'ero scordato Ehm 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 No Sì Qua Vabbè Che non è qua Ehm Ehm Tanto Andiamo Per la strada nostra C'è C'è un altro Ehm 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 Quella è tosta Quella è tosta Vediamo Vediamo se sta ne va Si Vattene va Vattene un attimo Perché C'ha pure cagnolina a seguito Là Quei due cazzi di nani Di merda A proposito La spada che ci ha dato Spada curva Spada curva Spada curva Spada curva di Harald Spadone Spadone Squarcio Impugna l'enorme lama Con entrambe le mani E colpisci ripetutamente Ai piedi del tuo avversario Quattordici Diciasette Questo quattordici Ehm Non lo so se si può potenziare Taglio Eh Si Come no Ehm 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 Ho capito, ho capito. Figlio di... Dai, pezza di merda! Ah, ti vuole pure tu! E dai! Niente, ci ha ammazzato, va. Stai di sotto. Siamo morti. Puttana di merda, era morta. Ha dato il calcio ogni volta. Sto calcio del cazzo. Vaffanculo, va. Ma vaffanculo, va. Ma perché cazzo fa sto calcio? Dio santo. Invece di dare il colpo con la spada. Era morta. Ma vaffanculo. Ma per caso... Sei andato a prendermi quell'oggetto? Dio santo. Solo... Dio santo. Qua... Qua ci ritorneremo dopo. Si, però tu mi ha rotto il cazzo. Qua bella. Qua bella. No, non, tu qua attaccato. Sì L'ho cato eh L'ho cato Non lo prende Eh che faccio Tanto sicura Dali mortacci tua Ho capito pezzo di titanite Te ne vai affanculo Che da curarsi Vieni qua Vieni vieni che l'hai finita Non mi puoi rompere le palle così Vieni che non voglio che tu cada Devi morire A Cristo santo Vieni che Bastardo Pieno amante del deserto del cazzo Ok Cristo sì E niente Allora devo andare a fare secca Devo ritornare a quel falò Trovare La cosa Perché sennò qua ci incula sangue E' di brutta pure E' di brutta pure E' lì E' lì Nooo Ma come cazzo Siamo morti Che c'era Ma vaffanculo C'era la cosa C'era La cenere Come cazzo Ha fatto a morire Ma cosa Ma veramente Da farti avvelenare il sangue Sto gioco di merda Ma porca puttana Eravamo arrivati Mi buttavo lì Ed era fatta Sta Sta puttana Sta Gran puttana Sì ma Sperta un attimo Ormai Una volta che sto qua Sono stato pure un coglione Che mi sono messo A braccio E' da sto cazzo Calcio A ridaglio Con sto calcio Vaffanculo Non però la puttana io mi ricordo che era da ste parti quella fottutissima larva di merda da dove cazzo mi dovevo buttare fanculo qui era fottutissima larva eccola qua puttana di tua madre ok siamo tranquilli non ci sta più nessuno di ste cazzo di troie e vediamo un po' chi è? bene qua eravamo morti noi dove stanno le mie anime? dove stanno le anime? non mi direi che sto sopra non me lo dire e non ci sono le anime le animelle e là c'è il falò ma le mie anime? secondo me sto sopra ora mi tocca rifare tutto il giro puttana che va senti sotto non ci sono quindi so sopra devo rifarmi tutto il giro cazzo tutto il giro speriamo che sono sopra poi arrivo a quel falò e ce le salutiamo ragazzuole ma poi io per che cazzo vengo da qua che non devo venire qua non ci sono Non mi dire che quelle di fuoco là, i nani come questo, dovrebbero esserci, infatti. L'NPC no, però. E battene a fanculo. Abbiamo preso tutto il completo di quella troia. Del piromando. Ecco, guarda le anime. No, cazzo, non me le ha lasciate, vabbè. C'è assurdo. Anime recuperate, ok. Che c'era più da recuperare qua? C'era qualcosa? Qualcosa che brilla? Non mi pare. Perché abbiamo preso... Ah, c'era, c'era, come no? Quell'altra cosa che io ho detto, come cazzo si arriva? Infatti, come cazzo si arriva? E là, ok. Ma... Dall'inizio di là, c'è questa radice? Forse dalla parte di sopra, che mi fa scendere. Eh, perché qua continua. La continua quella radice. Eh, scusa, eh. Come cazzo lo prendo? No, ma non si va. Lo vado, non vado da nessuna parte qua. No, no. Eh, no. E quindi? Eh, quindi un cazzo. Non me ne ricordo. Qui te butti. Eh, ma non sei morto, eh. Grandissimo fio della mignotta. Sei morto prima, sei morto. Eh, siamo da parte della... Ma di là, di quella radice... Facciamo una cosa. Tanto ormai... ...gli angeli... ...non rispondono più. Qua, abbiamo preso tutto. Se buttiamo... ...salviamo. Ah, qua c'è una vocazione d'aiuto. Ah, lui. Eh sì, perché qua sotto ora c'è a boss fight. Vabbè, ma la prossima volta, ragazzi. Perché ora mi vado a fare un altro livellino. E poi voglio andare a vedere... Voglio andare a vedere come cazzo si arrivava là. c'era un'altra cosa da raccattare dove c'era... ...dove c'era lui. Dove c'era lui? C'era una cosa su una radice. Devo capire come cazzo arrivarci su sta radice. Per prenderlo. È l'ultima cosa che ci manca da prendere in questa zona. Poi, per il resto, abbiamo fatto tutto. Una di questa. Bene, così. Sì, aumentiamo ancora. 40 vigore. 40 di forza. Bene. Arrivederci, signore. Miaggia. Allora. Rovine del picco terrestre. Da qui. Tanto gli angeli non ci sono più. E siamo sereni e tranquilli. ecco l'ho là. Come cazzo ci arrivo io là? Da dove cazzo si andava là? È da sopra. È possibile che... non è da sopra, no? Ma non mi fa salì. È per andare a sta cazzo da radice e farmi andare a prendere qualcosa. È da dove cazzo si passava? È da dove cazzo non mi fa andare nemmeno. È una cosa assurda. È assurda sta cosa. ci si deve per forza andare da qualche parte. Ah, da qua! È una titanita scintillante. Ma baffanculo, va. Ok. a posto. Allora niente. Ci salutiamo qua. Mi porto direttamente lì dove c'è l'evocazione. Qui ci sono due gargoyle. Non mi ricordo che boss ci sono. E poi da qui arriviamo alla città d'anelli. Un'altra bella zona di merda difficilissima. Pure là piena di strade labirinti. Su. Ok. Sì. Ho bisogno di l'evocazione sempre là. Perfetto. Non c'è altro, eh? cosa da raccattare? Niente. La sotto. No. E niente, ragazzuola. È a posto. Ci si vede alla prossima. Che poi ci buttiamo da... Ah, qua pure un altro. Oh, pure lui mi aiuta. E andiamo in tre allora. Lui e patch più io. Ok, ragazzi. Alla prossima, allora. Saluto a tutti da Giochebasta e da Kratos.